scusate non vi avevo visto benvenuti sul mio canale io sono emanuele iea e il canale prende giusto il mio nome mi trovate un po ovunque sia su facebook instagram tik tok e vi invito a lasciare like e follow sui miei profili su questo canale youtube pubblico spesso non sempre ma spesso contenuti di diverso genere da dove mangio a cosa compro e cosa guardo soprattutto nello specifico nei video in cui parlo di quello che sto vedendo quindi film serie tv o anche di libri mi concentro spesso con video un pochino più lunghi magari 15 20 minuti mezz'ora non non supererò mai la mezz'ora perché dopo un po' mi rompo pure le scatole oh madonna benedetta dell'ingoroneta di foggia cinofila e parliamo un po di curiosità e quant'altro curiosità che magari mi vengono chieste sui miei vari profili e ne faccio così dei video pertanto vi invito a mettere like campanellina e sottoscrivere questo canale e seguirmi anche sui vari profili social in questo modo rimarrete sempre aggiornati con curiosità a tema libri film e serie tv e soprattutto mi farete un sacco di compagnia e come dico sempre fino a quel momento yeah